Musica Potente appara ragazzi, qua è AlexDogio, mi ricordo di SolaSole e sono tornato Perché infatti ieri sera sono tornato dalle mie vacanze, se possiamo così definirle E quindi ho detto, ma noi dobbiamo fare un video Perché infatti vi ho lasciato all'incirca una settimanella e un paio di giorni senza video E però l'unica cosa che mi è un po' dispiaciuta è che nessuno di voi Aveva capito che appunto andassi in vacanze e non vi avrei caricato dei video Perché infatti ho ricevuto addirittura insulti tramite messaggio Per appunto il mio non caricamento dei video Questa è una cosa un po' poco tattica Per occhi comunque mi fa vedere che voi ci tenete abbastanza Questi appunto miei piccoli video di FIFA e non solo Perché infatti, non so se state vedendo, ma negli ultimi video sto cercando di variare un po' Perché adesso ne parlerò brevemente in questo piccolo video Ma magari poi in un futuro ne farò video un po' più ampio Non dico che stia perdendo la voglia Ma stia perdendo la voglia di giocare a FIFA Ovviamente non di fare i video Ma FIFA mi sta dando un po' i nervi Poi sempre con le solite cose Tipo tu fai il doppio dei tiri ma perdi Ecco mi sta facendo salire dalla grande il crimine E quindi volevo iniziare delle serie non più inerenti a FIFA Ma o ad altri giochi Oppure anche nella vita reale in generale Come ad esempio appunto una serie in cui edito Faccio delle sorti di one clip edit Delle clip registrate con la GoPro Come infatti ho fatto nell'ultimo video Nella quale giocavo al tenis Quindi ragazzi fate una piccola cosa Scrivete che video vorreste vedere O meglio che serie vorreste che io iniziassi Appunto non relativa a FIFA Ma vessi relativa alla vita in generale Fatemi sapere un commento E se potete lasciate un bel mi piace Che ovviamente in questa settimana siete stati Carichi lo stesso Ma ovviamente un po' meno del solito Quindi noi dobbiamo ricaricarci alla stragrande Comunque detto questo Oggi sono qui a presentarvi un nuovo pinfale Pinfale di quale giocatore di David Luiz Con la quale ci ho fatto 3 partite Le ho perse tutte Infatti ho ripreso mano alla stragrande Perse tutte le partite Comunque detto questo Non mi sembra davvero altro da dire E invece si perché infatti abbiamo raggiunto La bellezza dei 69.000 iscritti Siamo quasi a 70.000 E per 70.000 Non ho idea di che video farvi Dato che vi devo ancora portare Quello dei 50.000 Comunque detto di questo Bando alle cienze Ancela andiamo Andiamo a twittare su Facebook Come vedete Pinkfale I menod match David Luiz Xbox One E ragazzi perché se non l'avete ancora visto È uscito David Luiz Dal PS1 Allora ecco qua l'invito Io andrei ad accettare il prossimo Quindi quello dopo H4 Mike Che è questo Schiacciamo il tasto Xbox One E andiamo a vedere Quale sarà il nostro sfidante di oggi Oh my god Lubri 18 Spero di non aversi mai giocato Lubri 18 ci sta anche sentendo Quindi lo salutiamo E andiamo ad invitarlo Allora ragazzi Ci siamo L'abbiamo invitato Gli ho chiesto anche di chiudere il Kinect Così che voi sentite proprio una meraviglia E andiamo a vedere O meglio Prima dobbiamo aspettare Poi andremo a vedere La sua squadra Oh mio dio è arrivato 81-81-81 Abbastanza equilibrata E facciamo Gioca partita Guardiamo un attimo La sua squadra Espirando vince Questo primo Mi pare Questo mio ritorno Eh Che pezzo di me Squadra Mi ha appena insultato Squadra abbastanza ambigua 77 Kero No C'ha Kero Per niente una sorta di Barclays Pevering Strana e baggata Mi raglia Scherro Mi fa paura ragazzi Eh sì Signori Herman 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 avanza Herman avanza La mette in mezzo Dove c'era D'Amel Madonna Rodriguez James Colpo di testa No Colpo di testa C'è il gol Al sesto minuto Di Matt O Matt O Mels Dai E tu Dai Davide No Davide No Davide Davide Cosa mi combini Non tira Che sta un po' sperando Il mio avversario Ma la fa Ma la fa Ma la fa No So Intervento da macellaio No fallo Bravissimi Mamma mia Che signor passaggio Mamma mia Ma Ma Twidi Ma Twidi Vede Marco Royce Marco Royce Marco Royce Avanza Oddio No è E che palle Oddio No No Sì 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 Così 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 Palla Palla per Radamel 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 Fai il cao Al settantatresimo Ci porta in vantaggio Di 2 a 0 Buono Dai E tunze tunze Dai Dai No arriva mia mamma No 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 dai Che è finita No no dai Non era fallo Aspetti Aspetti un attimo Un secondo Sì Vai Radamel Radamel Ray Damel Ray Damel Falca 3 a 0 Al non so Che minuto Perché siamo I super recuperati Minuti di recupero Dai Fischia Arbitro Ponga fine a questa partita Ponga fine a questa partita Dai oh Devo andare Falla finire Falla finire Boom Sì E' finita ragazzi Abbiamo vinto adesso Vi devo un attimo Lasciare Arrivo su E ragazzi La partita è finita Ce l'abbiamo fatta Finalmente Oh mio dio Pensavo mi si fossero rotti gli occhiali A vincere Uping Vale dai Adesso comunque Cercherò di caricarvi Più video possibili Ricordatevi che Come sempre Io al pomeriggio Non ci sarò Poi forse ci sarò Qualche volta alla sera Però mi raccomando Scrivetemi anche Che video Vorreste vedere Non inerenti A FIFA Quindi Datemi tante idee E mi raccomando Lasciate un bel mi piace Perché dobbiamo Ma proprio d'obbligo Raggiungere i 3500 Ce la possiamo fare E quindi ragazzi Detto questo Io non ho più niente a dire Vi saluto E vi dico Potenta Passi Dal prossimo video Bolla